...della scelta fatta, ringrazio Valentina della fiducia che mi ha accordato e mi auguro ovviamente di portare avanti nel migliore dei modi quello che è il lavoro che ha iniziato Rennes, ovviamente non ho la sua esperienza e le sue competenze tecniche ma non mi tiro indietro di fronte alle sfide e credo che ci metterò lo stesso impegno con cui poi ho affrontato questo primo anno di consiglio ho conosciuto gli assessori, ho avuto l'ora ovviamente di collaborare con loro li apprezzo per ovviamente competenza, per collaborazione e quant'altro quindi niente, inizio questa nuova avventura nel migliore dei modi, spero